Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di Olympia Kyklos, manga edito da Star Comics in Italia, ma aspettate perché prima di cominciare vi devo giusto premettere che ci sarà ancora un altro piccolo cambiamento all'interno dei video recensione che trovate sul canale o comunque da questo momento in poi e fatemi sapere se questo modo nuovo di fare recensione vi piace. Un po' più dettagliato, già lo stavamo facendo ultimamente, ma in questo momento cercherò proprio di mettere i vari punti uno dopo l'altro. Quindi non ci resta che cominciare subito col video. Olimpia Kyklos, l'autrice Mari Yamazaki ed è edito in Italia da Star Comics come detto prima. Prezzo di copertina di 6,90€, ragazzi è dotato di sovracopertina, questo è il manga in questione, eccolo qua. Ed è anche molto molto bella a livello di edizione per quanto riguarda Star Comics. Ora partiamo subito con l'autrice. L'autrice è diplomata all'Accademia delle Belle Arti di Firenze, ha fatto già altre opere tra cui Plinius e Terme Rome e a proposito proprio di Terme Rome diciamo che l'autrice ha riutilizzato lo stesso stratagemma sia in quello che in questo. Quindi sempre quest'uomo del passato che arriva in un futuro rispetto a lui e poi ritorna nel passato e riesce a risolvere qualcosa grazie a quello che ha scoperto nel futuro. In questo caso parliamo di uno Spokon, se così possiamo dire, perché al centro almeno di questo primo volume ci sono le Olimpiadi. C'è la corsa, c'è un'altra cosa che non vi posso svelare ovviamente altrimenti andrei a fare spoiler, ma andiamo subito invece con i vari dettagli. Allora ragazzi, stile di disegno pulito e abbastanza dettagliato, con linee chiare e un tratto realistico. La cura dei dettagli in questo manga si nota nelle statue, nei vasi e nei vari riferimenti proprio dei vestiti che indossano le persone all'interno del manga a livello dei disegni che poi andiamo a vedere e un'altra cura molto importante secondo me sono le note a fine manga dell'autrice dove appunto ci porta a scoprire tutto quello che abbiamo visto fino ad ora. Passiamo alla caratterizzazione dei personaggi Per quanto riguarda la caratterizzazione dei personaggi è proprio bello vedere come un ellenico e un asiatico di tempi e di epoche completamente diversi possono andare subito in empatia grazie a una cosa che le accomuna, in questo caso lo sport. Inoltre l'autrice ci fa capire che Demetrio è un personaggio abbastanza autobiografico come potete poi vedere dalle note finali. Una delle cose che le accomuna è proprio questa non propensione allo sport o comunque non voglia di essere sportivo perché il nostro protagonista invece è molto molto talentuoso. I personaggi sono ben caratterizzati, più o meno tutti quelli da che troviamo e sono tutti ben inseriti all'interno della storia. E a mio avviso un altro punto di forza per quanto riguarda questo manga è proprio l'utilizzo di personalità realmente esistite all'interno della trama e quindi all'interno delle varie cose che andranno a succedersi. Poi parliamo dello sviluppo della trama. La trama si sviluppa in momenti barra giochi. Il primo capitolo specialmente è un po' più lungo rispetto agli altri perché l'autrice ci dà il modo e il tempo di integrarci all'interno di quello che stiamo leggendo quindi di tuffarci completamente all'interno della storia. Demetrio passerà più e più volte da un'epoca passata a un'epoca futura per quanto riguarda la sua persona riuscendo poi a risolvere delle cose che si stava portando dietro dall'altra parte. Ora parliamo del ritmo. Il ritmo risulta abbastanza dinamico e veloce. Basti pensare che all'interno di questi manga appunto si parla di corse e sembra una stupidata ma proprio la corsa ci dà l'elemento fondamentale per continuare a correre e continuare a leggere quello che abbiamo tra le mani. Vista la struttura della storia molte volte ci ritroveremo a passare dall'epoca precedente a quella successiva in maniera completamente diretta come se l'azione si stesse svolgendo nello stesso momento ma da un'altra parte quindi questa è una cosa che non farà restare la nostra lettura ma bensì ci porterà a continuare perché è come un balzo nel passato però facendo l'ultima cosa che stavamo facendo quindi c'è questa continuità che secondo me è veramente bella e veramente importante. Vi lascio una nota. Olimpia Kyklos ha una serie animata che però risulta essere molto più comica rispetto a quello che è il manga stesso la troverete gratuitamente su Vivid quest'opera mi ha incuriosito vi dico la verità proprio per il tratto che molte volte ricorda l'epoca classica quindi che ovviamente ne ripercorre il suo background storico e non solo poi ha accomunato un'altra passione che ho che è quella dello sport e quella degli olimpiadi quindi ragazzi se siete appassionati di olimpiadi secondo me non potete perdervi quest'opera inoltre altro fattore importante come vi ho già detto in precedenza è proprio l'utilizzo di personaggi realmente esistiti all'interno del manga quindi secondo me questa è una nota a favore dell'autrice in modo che con le sue note finali poi ci porta ad andare a scoprire qualcosa di nuovo e quindi a suscitare prima a noi una curiosità e poi dopo andare subito ad informarci grazie alle note su quello che avevamo appena letto. A me ragazzi purtroppo questo manga non ha incuriosito in maniera particolare o comunque è tanto da farmi continuare questa storia però lo consiglio a tutti gli appassionati dell'epoca classica o comunque delle maratone, delle olimpiadi, dello sport in generale se siete amanti degli Spokon perché no potreste avere anche questo tra le vostre collezioni poi ci sono comunque delle cose particolari ragazzi tipo le prime tavole a colori guardate qua questa secondo me è molto molto bella come tavola a colori e anche questa quindi vi lascio queste ultime due notizie, oddio c'era un nudo vabbè allora forse questa è meglio e vi lascio anche questa così da farvi vedere qualche altra tavola di quest'opera non voglio spoilerarvene troppo perché altrimenti potrei finire veramente per farvi vedere qualcosa che poi voi vorreste leggere. Allora ragazzi per quanto mi riguarda è tutto ho cercato di dividere questa volta in video in varie sezioni quindi vi ricordo di mettere un like se il video vi è piaciuto fatemi sapere con dei commenti se vi piace questo nuovo modo di fare la recensione è un po' più corta sicuramente non so precisamente quando sarà lunga ma sicuramente sarà un po' più breve rispetto al resto e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto vi raccomando vi ringrazio perché siamo cresciuti siamo diventati oltre mille e questa cosa mi fa veramente piacere inoltre come ultima parte vi ricordo che sotto in descrizione trovate il link per tutti i social telegram instagram facebook discord e non per ultimo anche il canale viola carmine luffi 90 l'unico che mi metterò in questo caso quindi ragazzi se vi fa piacere seguitemi ovunque io sarò solo felice di questa cosa vi ringrazio per essere arrivati alla fine del video vi ringrazio come sempre per il supporto e vi saluto dandovi appuntamento a un nuovo video dicendo sayonara ciao 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 ciao